Buongiorno a tutti, 9 novembre siamo qui a parlare del bitcoin perché questa notte ha aggiornato il nuovo massimo storico superando la barriera dei 68 mila dollari. Ecco come possiamo vedere dal grafico c'è stato questo nuovo breakout, questo nuovo all time out e ci siamo portati oltre il massimo del 20 ottobre di 67 mila dollari. Poi a quel massimo si era rivelato un falso breakout perché poi era stato seguito subito da due candele rosse da un periodo di consolidamento del prezzo con delle importanti ombre e fra poco ne parleremo e adesso c'è questo nuovo breakout del prezzo. Tra l'altro è un momento importante per tutta l'industria delle cripto perché proprio ieri è stato superato in termini di capitalizzazione il valore dei 3 mila miliardi di dollari. Prima di andare su questa analisi importante perché oggi vorrei parlarvi anche della pericolosità nell'utilizzo delle leve finanziarie soprattutto nel mercato delle criptovalute vi invito a iscrivervi a questo canale, a cliccare sulla campanella per restare aggiornati sulle mie idee, i miei spunti sui mercati finanziari e anche a leggere i miei più recenti articoli sulle 24 ore trovate il link in descrizione e li trovate anche qui appunto si spazia dalle cripto al BTP futura a tutti i più importanti concetti a mio avviso che riguardano in questo momento i mercati finanziari anche focus importante per quanto riguarda il tema dei mutui. Torniamo al bitcoin perché ho lanciato da poco un sondaggio che appunto riguarda proprio il momento in particolare di euforia che stanno vivendo le criptovalute e allora sul mio account twitter ho lanciato questo sondaggio chiedendo le cripto stanno formando una bolla speculativa come nel 2013 e nel 2017 lanciato poco fa questo sondaggio con una cinquantina di voti al momento vi invito chiaramente a votare perché più è alto il campione più è importante per tutti cercare di capire qual è il sentiment un po della della gente ma gente anche appassionata di questo settore visto che tra i 13.500 followers di twitter chiaramente molti hanno un livello a mio avviso di educazione finanziaria più alto della media proprio perché diciamo io mi occupo semplicemente di mercati finanziari ed educazione finanziaria e quindi chi mi segue già probabilmente poggia su un livello di conoscenze più alto rispetto alla media quindi un bel campione da monitorare uno spunto utile anche per voi ma appunto vediamo che in questo momento siamo alla 61 al 51 per cento di sì un no 33 per cento e non ne ho idea 15 per cento circa quindi abbastanza combattuto con una prevalenza però dei sì ma non al momento schiacciante siamo sostanzialmente a 50 per cento dei sì ricordo che le criptovalute hanno una struttura ciclica finora hanno dimostrato una struttura ciclica sia nel 2013 che nel 2017 si è verificato una bull run terminata con dei picchi intorno a dicembre inizio gennaio e poi dobbiamo anche dire che questa bull run è culminata con la creazione di una bolla speculativa che si differenzia dalle bolle finanziarie e ne ho fatto un video anche su questo vi invito a vederlo comunque una bolla speculativa che poi quando è scoppiata nei 12 mesi successivi ha fatto male perché è arrivato a perdere anche più dell'80 per cento il bitcoin e le alternative coin hanno perso anche tra il 90 e il 95 per cento alcuni progetti sono falliti quindi bisogna fare molto attenzione a momenti come questi a non farsi prendere dall'euforia a non farsi prendere dalla forma non sono consigli finanziari siamo qui semplicemente a fare una chiacchierata e a parlare di educazione finanziaria però la struttura ciclica dei precedenti due anni 2013 e 2017 per certi versi paragonati a questo 2021 richiama il concetto di potenziale picco e quindi poi potenziale anche scoppio della bolla speculativa per questo ho lanciato questo sondaggio per capire secondo la vostra opinione se il 2021 sarà come nel 2013 e come nel 2017 ovviamente non c'è alcuna certezza ma si tratta si entra nel campo delle opinioni delle probabilità sulla base di quello che è successo in passato perché prendiamo il 2013 il 2017 e non altri anni perché ripeto la struttura ciclica del bitcoin è abbastanza agganciata al concetto dell'halving l'halving è il momento in cui ogni quattro anni è previsto che vengano dimezzate le commissioni ai miners che sono coloro i quali che validano sostanzialmente risolvendo un calcolo computazionale le transazioni nella blockchain del bitcoin ogni 10 minuti alla blockchain viene aggiunto un nuovo blocco con delle transazioni che vengono appunto confermate dai miner che risolvono un calcolo computazionale chi lo risolve per prima si aggiudica i nuovi bitcoin che vengono generati proprio ogni 10 minuti come previsto dall'algoritmo e dal protocollo ideato da gruppo di informatici che si nasconde dietro l'acronimo di satoshi nakamoto che 13 anni fa diede vita a questo progetto ecco ogni quattro ogni 10 minuti vengono creati dei nuovi bitcoin come ricompensa ai miner che risolvono il blocco e quindi che convalidano poi le transazioni questo per semplificare il meccanismo è anche un po più tecnico ma sto chiaramente sintetizzando e questo questi nuovi bitcoin sono quindi la ricompensa ai miners e ogni quattro anni però questa ricompensa viene dimezzata eravamo a 12 oltre 12 prima di maggio del 2020 a maggio del 2020 c'è stato un nuovo halving e quindi è stato previsto che da allora questa quota si dimezzasse siamo a circa 6 bitcoin per blocco quindi in questo momento ogni 10 minuti vengono creati poco più di 6 bitcoin fra al prossimo halving previsto nel 2024 questa quota sarà dimezzata e saremo a poco più di 3 bitcoin al minuto fino a quando appunto i bitcoin non verranno più generati verranno generati su scale molto molto basse e quindi alla fine si arriverà più o meno alla soia dei 21 milioni di bitcoin che è quella massima coniabile secondo appunto questo algoritmo parliamo di un ci vorranno più di 100 anni però il grosso della fetta della della creazione si giocherà nei prossimi 5 10 anni perché al momento sono stati già creati quasi 19 milioni di bitcoin ne mancano 2 milioni e quindi secondo questo meccanismo di inflazione programmata decrescente che ogni quattro anni vede un dimezzamento della politica monetaria del bitcoin chiaramente si andrà a far questo questo è anche lo schema per cui il bitcoin è stato creato in modo digitale per ricreare l'effetto rarità di un qualcosa di prezioso appunto che va a essere in teoria ad acquisire più valore nel tempo in quanto merce sempre più rara merce sempre più preziosa quindi questo è un po' lo schema di solito quando c'è l'alving l'anno dopo c'è parte una bull run parte una bull run è accaduto nell'alving del 2012 quindi bull run del 2013 nell'alving del 2016 bull run del 2017 ma di solito anche le bull run poi creano un'eccessiva euforia un livello di emozioni molto forti sul prezzo che si allontana dal valore intrinseco e poi chiaramente il mercato come vi dico spesso corregge questi alti livelli di emozione e quando li corregge a volte li corregge anche andando molto più in basso rispetto al valore intrinseco quindi perché scatta anche si passa dall'euforia al panico e poi nella media nel tempo si torna sui valori fondamentali per quanto non sia semplice parlando di criptovalute parlando di bitcoin estrarre rispetto a un'azienda che ha un bilancio a dei parametri più semplici capire il valore fondamentale su questo ne parleremo magari su altri video vi invito anche a leggere altri articoli sul sole 24 ore dove ho parlato dello stock to flow del calcolo dello stock to flow che è uno dei calcoli più importanti per cercare di estrarre il valore fondamentale del bitcoin poi c'è anche la teoria di calcolo di markovitz sulla diversificazione portafoglio e quindi tanti tanti spunti per arrivare a capire un po quanto può valere nel tempo e può andare a valere nel tempo il bitcoin ma torniamo al punto di oggi vorrei farvi vedere quindi sondaggio mentre mi fa piacere che i voti proseguono sono già 30 in più mentre sto parlando in questo momento ma torniamo in questo momento spostiamoci sul grafico del bitcoin che sta appunto facendo questo massimo 68 mila in questo momento siamo comunque in zona inesplorata ecco vorrei dirvi che spostiamoci sulla time frame a quattro ore perché è un time frame chiaramente che ci permette di guardare con più zoom le queste ombre queste ombre vedete questa ombra incredibile del 28 ottobre il pezzo addirittura era arrivato a 56 mila e poi 61 mila quindi una candela di quattro ore con uno sbalzo da 56 a 61 guardando quest'altra ombra qui da 59 a 63 comunque tantissime ombre più verso il basso che verso l'alto vuol dire che il prezzo è andato violentamente giù e poi è ritornato violentemente su però tutte queste ombre vedete ce ne sono tantissime si possono vedere sul time frame a quattro ore ma anche sul tempo in più bassi guardate quest'altra dell'11 ottobre ecco queste ombre a mio avviso non è da escludere non sono consigli finanziari non sono previsioni ma non sono da escludere in futuro nuove ombre 99 queste shadow molto violente questa forte volatilità sul prezzo del bitcoin e delle in delle cripto valute anche sull'alternative con forse ancora più accentuate perché perché in questo momento ci sono tanti trader che operano con forti leve finanziarie puntando su nuovi sul fatto che in questo momento il trend e prosegue al rialzo e quindi cosa fanno entrano una posizione long quindi acquistano il bitcoin o chiaramente dei satoshi molto probabilmente perché acquistare un bitcoin a 68 mila dollari ci vuole davvero tanto tanto capitale comunque acquistano una porzione di bitcoin cioè dei satoshi e poi mettono lo stop loss ma lo acquistano con una leva con una leva finanziaria perché magari puntando al fatto che il bitcoin salga chiaramente con l'effetto leva questa il loro potenziale guadagno può essere più elevato moltiplicato appunto per la leva però è chiaramente poi mettono anche degli stop loss cioè dei livelli di prezzo al di sotto del quale l'operazione si chiude in automatico in questo caso in perdita ma una perdita già prefissata e più contenuta rispetto a quella che eventualmente ci sarebbe se appunto non ci fosse lo stop loss e il prezzo andasse totalmente nella direzione opposta e quindi iniziasse a scendere cosa che non è mai da escludere in questi anche in questi casi di piena euforia però cosa cosa accade accade che quando il mercato è pieno di stop loss ma in funzione anche di queste posizioni in leva che sono state messe sostanzialmente diventa una sorta di pasto gratuito per gli investitori un po più sgamati che hanno la capacità di portare attraverso i volumi e attraverso i capitali che hanno importante di muovere il prezzo in certe direzioni desiderate perché ricordate i piccoli operatori non hanno quella quantità di moneta tale da spingere in alto in basso un prezzo e quindi è importante capire che c'è un vantaggio da parte di chi invece ha più volume in questo caso sono gli investitori istituzionali che avendo più capitali da gestire e più conoscenze del mercato possono incidere sul prezzo quindi in questo caso si chiama il cosiddetto fenomeno di caccia agli stop andando a cacciare a portare il prezzo dove è concentrato il maggior numero di stop loss si va chiaramente a fare una liquidazione di tantissime posizioni di piccoli trader avidi tra virgolette perché avevano operato con la leva e quindi si va praticamente a buttarli fuori dal mercato quando più violenta è questo questo shake questa questa operazione di buttare fuori tutti quelli che si erano messi con gli stop loss ma chiaramente per proteggere una posizione molto long a leva chiaramente tanto più violente più si creano queste ombre però allo stesso tempo il fatto che si tratti di un fenomeno tecnico lo si vede subito dalla candela successiva perché poi il prezzo ritorna viene riportato su nei valori precedenti quindi è un discorso tecnico che fa scattare diciamo una un'operazione che può essere anche chiamata long squeeze cioè il fatto che molti erano long e vengono puniti per essere troppo per aver caricato troppo le posizioni su una direzione e quindi a quel punto quando gli investitori vedono queste riescono a vedere nei book attraverso le loro strategie queste posizioni questa liquidità è un pasto gratis per loro e chiaramente è una sconfitta assicurata per i piccoli trader che provano a giocarsi la carta long in momenti come questi magari appunto con delle leve con degli stop loss anche magari molto stretti tra l'altro volevo dirvi che quando si utilizza la leva non bisogna mai dimenticare il proprio money management perché ad esempio se io utilizzo una leva 5 è sufficiente una escursione del prezzo anche del 20 per cento per perdere tutto il capitale se io utilizzo una leva 10 è sufficiente una escursione del 10 per cento quindi 10 per 10 100 per perdere il 100 per cento del mio capitale quindi è vero che la leva moltiplica i guadagni in alto ma fa scattare delle liquidazioni forzate anche con delle basse relativamente basse per questo mercato escursioni al ribasso del prezzo e quindi anche in questo caso c'è il tema tra l'altro anche chi non inserisce lo stop loss viene comunque si utilizza una leva molto elevata viene automaticamente buttato fuori dal mercato perché basta una una appunto una ribasso del 5 10 per cento per andare a disintegrarli chiaramente la l'intera posizione e quindi questo è un po il concetto che spiega queste forti queste forti ombre spesso accompagnate l'utilizzo di a posizioni dove sono molto presenti gli stop loss o anche dove non sono presenti stop loss stretti ma si utilizza molto la leva quindi basta per chi può farlo portare il prezzo più giù un'escursione intraday violenta e quindi buttare fuori dal mercato tanti operatori che in realtà avevano giocato un po il biglietto della lotteria mettendosi long a leva in posizioni in momenti carichi in momenti euforici come questo quindi bisogna fare molta attenzione questo è uno spunto che ho tratto per cercare di parlarvi di come può funzionare la leva di come possono funzionare gli stop loss di come i grandi operatori a volte vanno a caccia di questi stop loss è una liquidità da pescare per loro è un pasto gratis e chiaramente a rimetterci sono sempre chi coloro che operano sui mercati un po scambiandoli come un campo da gioco gambling piuttosto che un'arena abbastanza particolare una stena abbastanza difficile dove bisogna operare con consapevolezza e con conoscenza andiamo a chiudere per giusto per vedere un po il sondaggio siamo arrivati nel frattempo 87 voti e siamo ancora con uno stabile del 50 per cento che non va su quindi per ora è abbastanza combattuta l'idea tra il fatto che si stia formando o no una bola speculativa in questo momento del bitcoin chiaramente lo vedremo meglio nelle prossime ore soprattutto nelle prossime giornate mentando quello che posso dirvi è di studiare studiare perché i mercati finanziari vanno compresi e quando siete vi accorgete che vi sta scattando una formula fear of missing out una sorta di sofferenza di essere fuori da qualche investimento che nel frattempo sta correndo sappiate che spesso è una cattiva consigliera quindi se decidete di investire in qualsiasi asset dovete farlo a mio avviso un piano di money management conoscendo bene quell'asset e avendo una strategia ben precisa dividendo se si tratta di trading o di investing con un orizzonte temporale più lungo mai perdere di vista le basi per operare sui mercati finanziari ci vediamo al prossimo video e appunto vi invito a leggere i miei approfondimenti sulle criptovalute e anche su tutti gli altri temi della finanza sul sole 24 ore sia online che anche sul quotidiano a presto